shh ascolta bene mi raccomando senti niente no bene nemmeno io e questa è una duplice buona notizia in primo luogo perché significa che non sono diventato sordo ma in secondo luogo perché devi sapere che in questo momento sul mio pc stanno girando la bellezza di 9 ventole ed hanno anche il loro bel da fare perché sto utilizzando questo software di cattura che registra il video il software di montaggio e in più c'è aperta anche la macchina virtuale come al solito che andremo ad utilizzare tra un attimo e questo è tutto merito di una perfetta calibrazione delle ventole che raffreddano alla perfezione il mio pc ma non fanno sentire neanche un fiato come si fa te lo spiego subito e quindi se ti senti pronto iniziamo da quando ho presentato il software chemomile che agisce sui core del processore e sul profilo di alimentazione per far scaldare meno che consumare anche meno il pc si è posta una domanda abbastanza ricorrente che è quella nei commenti che ti sto mostrando che può essere riassunta in questo modo esiste una maniera per gestire coerentemente e calibrare correttamente tutte quante le ventole di raffreddamento del pc e quindi le ventole del case le ventole dell'alimentatore della scheda video del processore e così via ebbene la risposta è sì esiste un software che è letteralmente perfetto per questo utilizzo naturalmente anche gratuito e semplicissimo da utilizzare ed è esattamente quello che voglio mostrarti oggi tuttavia prima di cominciare ci tocca il nostro rituale apotropaico per tenere buone le divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va l'ho già detto e lo ripeto mi sento particolarmente scemo a mostrare questo disclaimer perché naturalmente non mostro mai nulla che sia neanche lontanamente dannoso per i pc ma se così vogliono le divinità del tubo noi ci adeguiamo ma veniamo a noi e andiamo a scaricare il programma che ci servirà per fare la piccola magia di oggi e per farlo non faremo niente di diverso dal solito quindi apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it apriamo il sito e qui in alto andremo subito a portarci nella sezione che si chiama downloads una volta aperta la pagina possiamo scendere un pochino più in basso fino ad individuare questo programma quello che si chiama pan control che potrà essere scaricato cliccando sul pulsante azzurro che si chiama appunto file download diversamente se il programma non dovessi riuscire a trovarlo o avessi qualsiasi tipo di difficoltà potrai fare anche in questo modo cioè portarti qui in alto sulla lente di ricerca e nella barra di ricerca digitare per la appunto fan control premiamo invio e in un secondo troveremo il nostro fan control per scaricarlo ci basterà fare un semplicissimo clic sul nome del programma eccolo qui il nostro file è stato scaricato a questo punto facciamo un clic per andare ad aprire la cartella compressa che lo contiene e potremo contestualmente chiudere la pagina del browser retrostante che non ci serve più per lanciare il programma dovremo scendere fino ad individuare questo file quello che si chiama fan control ed è una applicazione nel caso in cui invece sul tuo pc sia attiva la visualizzazione delle estensioni dei file visualizzerai questo file come fan control punto exe quella che ti ho fatto scaricare una versione portable del programma che non richiede assolutamente nessuna installazione e che anzi potrà essere messa in qualsiasi cartella oppure addirittura su un pendrive nel caso in cui te lo voglia portare in giro per ottimizzare ad esempio il pc di un amico quello che tuttavia è importante e che quando lo devi utilizzare il programma si trovi su una cartella locale che quindi sia copiato sul computer anche perché sarebbe molto scomodo eseguirlo ogni volta tenendo collegata la chiavetta un'altra cosa fondamentale che voglio dirti è che questa volta non lancerò il programma su questa macchina che è una macchina virtuale perché ti ho appena detto che in questo momento stanno girando sul mio pc nove ventole ottimizzate fino ad ora personalmente da me e che ti voglio mostrare come lo stesso risultato o forse anche meglio si può ottenere con fan control e ti do il benvenuto sulla mia macchina fisica che non uso mai nel corso dei video su cui in questo momento è attiva la macchina virtuale che abbiamo utilizzato fino ad ora è attivo cap cut con cui effettuo il montaggio di questi video è attivo nord vpn è attivo obs studio che mi serve per catturare queste schermate in tempo reale questa è sempre la finestra di virtual box poi c'è photoshop con cui ho realizzato la miniatura di questo video il nostro browser google chrome che è sul sito gentiluomo digitale e poi l'explorer su cui ho scaricato lo stesso file che ti ho appena fatto scaricare sulla macchina virtuale andiamo ad estrarlo cliccando con il pulsante destro e scegliendo la voce estrai tutto seguita da estrai e si aprirà la nostra cartella di fan control per lanciare il nostro file individuiamo fan control che come vedi in questo caso appare come fan control punto exe dato che io attiva la visualizzazione delle estensioni dei file e facciamo un doppio clic per aprirlo attenzione perché trovandomi su una macchina fisica probabilmente andrà via il video per qualche secondo e infatti in questo momento sto cliccando su sì per consentire che vengano apportate le opportune modifiche al mio dispositivo e come vedi si apre fan control che ci richiede di prenderci un minuto per controllare il l'accordo di licenza potremo farlo cliccando su questo pulsante qui mentre io cliccherò sul pulsante ok per proseguire come puoi notare fan control è momentaneamente in lingua inglese ma una volta che lo avremo configurato sarà possibile passarlo in lingua italiana fan control ha già individuato tutte e nove le ventole presenti sul mio computer e mi chiede di effettuare il setup assistito clicchiamo su ok per procedere e nella finestra successiva potremo generalmente lasciare tutto quanto come si trova non preoccuparti se la tua configurazione sarà diversa rispetto alla mia perché in base all'hardware che viene rilevato fan control configura automaticamente i segni di spunta sulle relative caselle un controllo generale comunque sarà opportuno ad esempio nel caso in cui tu abbia una non so ventola sulla ram dove eccola qui che fan control non è riuscito ad individuare ma generalmente per quello che ho potuto vedere sulle 5 6 macchine su cui l'ho testato questo problema non si è mai posto clicchiamo quindi su ok per procedere e veniamo avvisati che l'applicazione verrà riavviata cliccando su sì diamo il via al refresh della macchina e da un controllo che durerà circa un minutino ah mannaggia guarda ci mancava un tanto così va bene metto via i residui del mio pan dolce che stavo mangiando e quello che ci chiede in questo momento fan control e di dare un nome alle ventole che lui ha individuato si tratta di un'operazione assolutamente facoltativa non è indispensabile però sarebbe opportuno se hai contezza di ogni ventola quale sia nominarla in modo tale da avere un maggior controllo a vista sul sistema ad esempio questa qui fan numero 1 è la mia ventola della cpu e io infatti vado a nominarla come cpu lo stesso vale per questa che la ventola superiore del mio case questa è la ventola mediana questa è la ventola inferiore queste due si capisce già che sono le due ventole di nvidia e così via una volta finito di nominare tutte quante le nostre ventole clicchiamo su ok quello che invece ci viene chiesto adesso è estremamente importante e in particolare ci viene chiesto se vogliamo che questo programma si avvii automaticamente con windows e io ti consiglio fortemente di scegliere sì e quindi mettere il segno di spunta perché questo ti consentirà di controllare la velocità delle ventole e in secondo luogo se vogliamo che questo programma venga avviato minimizzato in modo tale che non avremo la sua finestra davanti agli occhi e anche in questo caso naturalmente il mio suggerimento è cliccare per minimizzarlo invece per quanto concerne la questione delle ventole nascoste io ti consiglio di lasciare il segno di spunta e dimostrarle comunque perché in alcuni casi come puoi vedere premo ok per andare avanti sul mio pc queste tre ventole che sono appunto delle ventole relative al case e ad altre cose che non hanno un controllo di velocità vengono comunque mostrate e io posso sapere a colpo d'occhio ad esempio se le ventole funzionano correttamente fatto questo la prima cosa che ti suggerisco di fare di andare qui su settings e cambiare la lingua scegliendo ovviamente l'italiano un control si riavvierà automaticamente e si riproporrà in lingua italiana quello che possiamo notare è che a seguito di tutta la procedura iniziale ha effettuato una calibrazione di tutte quante le ventole tachimetriche del nostro pc le ventole tachimetriche sono quelle in grado di misurare autonomamente la loro velocità come vedi queste ultime sono state tutte quante calibrate quelle invece prive di sensore di velocità come quelle che sono presenti sul mio case che girano sempre alla stessa velocità fissa invece vengono rilevate ma purtroppo fan control non ha alcuna gestione su di esse e questo è normale perché non dispongono di alcuna forma di regolazione ma qual è il vantaggio nell'utilizzare fan control ebbene tanto per cominciare il vantaggio è immediato a colpo d'occhio possiamo infatti verificare con una sola occhiata al pannello di fan control che tutte quante le nostre ventole funzionino e sapere esattamente come stanno funzionando e quindi anche la percentuale di lavoro che sta effettuando una ventola rispetto al suo massimo e quanti giri per minuto sta compiendo in questo preciso istante ma non basta naturalmente perché per ciascuna ventola premendo su questi tre puntini qui potremo passare al controllo manuale e aumentare oppure diminuire il suo livello di rotazione la riporto in automatico e ne vado a disattivare la curva ma che cos'è una curva una curva è un profilo di gestione di una ventola come ad esempio quella che ci viene proposta dallo stesso fan control che crea autonomamente questo profilo che si chiama flat che cosa fa questo profilo o curva va ad incrementare in maniera lineare la velocità di rotazione delle ventole sulla base del riscaldamento della periferica che la ventola stessa va a raffreddare naturalmente questa cosa viene fatta già in automatico da fan control ma quello che devi sapere è che tramite il pulsante più potrai creare quando sarai diventato esperto una serie di curve di diverso genere da associare ad una oppure più ventole il mio consiglio tuttavia è di lasciare gestire per il momento tutto quanto a fan control in maniera tale da non creare problemi di riscaldamento al tuo computer ma allora quando vanno utilizzate queste benedette curve beh un esempio può essere proprio il mio che ho bisogno di utilizzare il computer in un ambiente silenzioso e ho creato per l'appunto una curva che ho chiamato silenzio sulla mia macchina che può gestire tutto il numero notevole di applicazioni che utilizzo contestualmente che quindi fanno salire la temperatura del computer senza far girare eccessivamente le ventole tenendole al minimo indispensabile per poter tenere la macchina fresca ma contestualmente da non fare particolare rumore al contrario quando usi un videogame magari potrai utilizzare una curva che manda tutte le ventole al cento per cento in maniera tale da tenere la macchina fresca tanto comunque in quel momento utilizzi le cuffie ti garantisco che se farai un pochino di pratica imparerai ad utilizzare fan control in maniera egregia e a creare le tue curve personalizzate la sola raccomandazione che non sarò mai stanco di darti è quella di tenere sempre un occhio alle temperature in modo tale da non farle salire eccessivamente perché potresti arrivare perfino a danneggiare il tuo computer anche se questo in realtà è molto difficile perché quando raggiunge delle temperature critiche il computer si spegne automaticamente e va in protezione quindi in questo caso mi raccomando massima attenzione ma veniamo al ringraziamento del giorno che è destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima